Un bilancio di fine anno più che positivo, quello tracciato dal sindaco Pierluigi Biondi sui progetti relativi alle risorse del PNRR e del fondo complementare. Un lavoro incessante, tante opere programmate che daranno un nuovo volto alla città entro qualche anno. 171 milioni di euro per l'Aquila, 55 gli interventi ad oggi finanziati, in parte gestiti dal Comune e in parte dall'Usra. Risorse per opere pubbliche, per la gestione del patrimonio, per il trasporto pubblico locale, per il Gran Sasso, per la rigenerazione urbana, per la ricostruzione pubblica o per l'efficientamento della macchina amministrativa o per la gestione del territorio, vede ad esempio le risorse per il sistema di videosorveglianza. Citare tutti i progetti è impossibile, ma alcuni sono più importanti degli altri. La partita più importante è sicuramente quella di 60 milioni di euro, quella della riqualificazione del patrimonio post-sisma con la Scuola dei Vigili del Fuoco, pubblica amministrazione e tanto altro, compresi i fondi per il Castello Cinquecentesco. Sono complessivamente 55 i progetti finanziati e proposti dal Comune dell'Aquila o dal Comune dell'Aquila in accordo per esempio con la sovrintendenza, con la direzione anche musei del MIBAC per quanto riguarda il Munda. Si tratta di circa 170 milioni di euro di lavori. Abbiamo rispettato le cosiddette milestone, le pierre miliari fissate, al 30 di giugno, al 30 di settembre e al 31 dicembre. È stato un lavoro importante che riguarda la riqualificazione di molte aree della città, la implementazione degli impianti sportivi, la viabilità, l'efficientamento degli edifici. Metteremo mano a moltissimi luoghi di aggregazione sociali, soprattutto nelle nostre frazioni e nelle nostre periferie. C'è il grande progetto di riconversione del patrimonio immobiliare post-sisma. Abbiamo già iniziato con la Scuola dei Vigili del Fuoco, con 18 palazzine che verranno riconvertite. Ci saranno altri pezzi di progetto case che sarà demolito, altri che saranno riutilizzati per il Servizio Civile Universale. Insomma, una mole di lavoro importante che ha visto impegnato tutti i settori dell'Enter. e ringrazio per questo tutta la macchina amministrativa, oltre naturalmente la Giunta, il Consiglio Comunale, la maggioranza che mai hanno fatto mancare il supporto per questa importante attività.